Dopo settimane di attesa è arrivata la decisione di Forza Italia di sostenere la candidatura di Monica Gambardella. Come mai? Il partito, nei suoi organi più rappresentativi, quindi dal commissario al direttivo comunale della città di Rovigo, ha deciso all'unanimità di sostenere la candidata proposta dalla Lega, appunto la nostra candidata sindaco Monica Gambardella, dopo alcune settimane di discussione che abbiamo fatto al nostro interno e anche con gli alleati, perché giustamente quando si tratta di proporre una candidatura a sindaco di una città a capoluogo è giusto che ci sia un dibattito anche approfondito. Inizialmente la scelta sembrava quella di correre da soli, candidarsi da soli con un proprio candidato, tra i nomi figurava proprio il tuo. Quindi come hai preso questa decisione e come hai vissuto questi giorni? Ma sono stati giorni intensi sicuramente di molti confronti e di molte discussioni. È evidente che quando si fa un passo indietro lo si fa nell'interesse del partito, nell'interesse della squadra, questo è evidente. Chiaramente Forza Italia ha fatto la propria proposta, l'ha cercato di portarla avanti, soprattutto in un momento in cui anche la Lega aveva dimostrato di non avere un proprio candidato diretto. Poi quando le cose si sono schiarite abbiamo trovato anche l'accordo politico. Ecco, quindi questa scelta non è stata fatta subito per questo motivo, perché c'era un po' di confusione? Sì, non avevamo condiviso il metodo con cui si stava ricercando in qualche modo il candidato. Poi c'erano anche questioni di contenuto che nei prossimi giorni, ovviamente, e sono i temi che riguardano principalmente la città, sui quali tra l'altro stavamo già lavorando con la precedente amministrazione, perché non è che poi bisogna buttare via tutto il lavoro che è stato fatto. Ci sono alcune cose importanti sulle quali noi abbiamo chiesto delle garanzie e su quelle continueremo a lavorare come Forza Italia. Ecco, qual è il programma di Forza Italia, almeno riassunto brevemente? Ma sicuramente tra le priorità c'è la chiusura della questione del Maddalena, perché è evidente che questo vorrebbe dire rilancio completo di un quartiere importantissimo della città. Quando sento parlare nei punti programmatici della chiusura dell'Odo Baldetti fa un po' sorridere, non può essere quello un punto di programma. Quella è una questione che va chiusa e non peraltro abbiamo lasciato quasi 8 milioni a disposizione proprio per chiudere questa questione, che si potrebbe chiudere a cifre inferiori. Quindi io vorrei che quello venisse stralciato dai punti di programma, ma fosse una questione che va chiusa un po' come, diciamo, pagare gli stipendi. Sicuramente puntiamo la riorganizzazione interna del comune, sulla quale stavamo già lavorando prima che si interrompesse l'amministrazione, perché dobbiamo valorizzare prima di tutto e motivare il personale dell'amministrazione comunale. Quindi inteso sia come personale qui che la polizia locale che ha bisogno di una sede dignitosa. La chiusura della questione Maddalena, appunto come ho detto, sicuramente il prossimo bilancio dovrà vedere la maggior parte dello stanziamento per manutenzione e decoro della città, perché una città accogliente poi può prevedere manifestazioni, eventi, sport e tutto il resto. Però prima di tutto deve essere un bel salotto sistemato. Ci sono tante opere in corso, non dimentichiamolo oggi. La gente in maniera molto semplice ringrazia il commissario e fa i complimenti al commissario. Il commissario sicuramente fa un buon lavoro, ma ricordiamoci che questi lavori sono tutti lavori che sono stati messi in opera dall'amministrazione che è appena decaduta. Ecco, ci sono vari sfidanti ovviamente per questa corsa elettorale. Come vedi gli sfidanti? Quindi il centro-sinistra, le civiche? Ma, francamente sappiamo che la sfidante è oggi più in voga, anche perché sta investendo molti soldi in campagna elettorale e lo sta dimostrando, anche se mi pare che abbia un concetto di rispetto delle regole molto relativo. è la candidata Menon, con un programma che mi sembra più un programma che poteva funzionare 10-15 anni fa quando si proponevano i miracoli. Oggi i miracoli a Rovigo non si possono fare. Si deve partire dalle piccole cose e con le piccole cose noi possiamo restituire la dignità a questo capoluogo perché comunque questo è il capoluogo della provincia. Centro-sinistra accusa noi di esserci uniti per le poltrone. Francamente, credo che i capilista del PD dimostrino francamente che forse loro si sono uniti per provare a riprendersi poltrone che non vedono da molti anni. Quindi è una sfida ovviamente molto difficile. La città però dovrà valutare molto attentamente e al di là di nomi vecchi o nomi nuovi poi sono i cittadini che scegliono con la preferenza chi vogliono far entrare in comune. Grazie mille. Grazie a voi e buona campagna elettorale.